ragazzi finita da poco la partita in Napoli e Spugna lo Juventus Stadium al 94esimo con gol di Raspadori adesso è successo tutto negli ultimi otto minuti oggi per me alla Juve hanno fatto l'ennesimo furto ai danni della Juve a parte la solita prestazione di merda per questo non giustifica questo per me partiamo dalla fine quello di Milik non è mai fallo per me per me personalmente quello di Milik non prende mai fallo perché prende nettamente il pallone sulla botica ma questo non giustifica però l'ennesima prestazione di merda che ha concesso ancora una volta quella latrina di merda di Allegri c'è una formazione tutta sbagliata tutta sbagliata perché doveva pensare oggi ha giocato palesemente per lo 0-0 poi doveva pensare alla finale della coppa dell'universo di sta grandessima ceppa di minchia contro i cartonati di merda della nuova Vergine Maria incoronata di Romelu Lukaku la prestazione è stata vergognosa è stato io dico una quadra quadrato quadrato devi sparire dalla faccia della terra perché a te non ti sopporto più quadrato non ti sopporto più a te e ti metti in campo non ti sopporto più fai schifo quadrato mi fai cagare rabbio come al solito ennesima mezza merda in campo che non ne combina una rabbio e c'è gente che mi continuo a dire ah c'è l'ancora io vedo ciò che vedo rabbio è una merda come l'allenatore che lo mette in campo ah poi un'altra cosa spiegami perché Vlaovic la mette a un minuto dal novantesimo in campo Vlaovic ma guarda io se fossi stato in Vlaovic mi sarei rifiutato di entrare in campo per tenere tutto il tempo in campo quella pippa immonda di Minich perché Minich è una pippa di proporzioni bibliche poi ti sei ricordato di mettere fagioli almeno che ha recuperato qualche bel pallone ha fatto più fagioli in un quarto d'ora che tutto il centrocampo della Juventus ha fatto qualcosa di qualcosa meno l'ha fatta vedere aveva fatto anche un bel lancio credo per per quadrato e c'è stata anche un'occasione da gol quindi ha fatto più in un quarto d'ora che tutto il centrocampo della Juventus migliore in campo per me Gatti Gatti ragazzi è l'ennesima prestazione monumentale e poi sento dire Gatti il rosso ragazzi ha dato un buffetto a Cavaraschelia questo cos'è fatto di carta pezze che va giù quello al limite può essere può essere un giallo ma neanche te tutti a dire rosso rosso scandalo rosso non dato a Gatti e sento dire addirittura sento dire condotta violenta allora allora materazzi dovevano andare alla galera allora se quelle condotte violenta di Gatti a materazzi che cazzo devono fare ah per piacere va là per piacere comunque comunque a parte tutto questo a parte proprio in malafede proprio queste malafede il gol annullato la Juventus grazie alla FGC di merda a Aveo Gravina comunque a parte questo vera ennesima prestazione partita di merda della latrina allegri se io ma quando è che sparisci io ormai sto con tanti giorni tu devi sparire devi sparire allegri mi hai rotto il cazzo va bene mi hai rotti che tre sconferta sconfitte in cinque partite cos'è oggi non c'è san culo oggi non c'è stato san culo che ti ha aiutato eh va bene così impari così impari caro mio latrina di merda per piacere anche oggi la Juve ha perso per colpa tua ancora una volta è colpa tua latrina di merda guardate lo specchio e sputati in faccia bastardo grazie a tutti